Noi ci occupiamo di calcio, di tennis, di mini basket coinvolgendo le scuole, di ciclismo, facciamo delle corse di mountain bike nel percorso cittadino, di atletica leggera, abbiamo una gara che è molto famosa, la spacca gambe, di cui sicuramente conoscete, che più di vent'anni che facciamo a livello internazionale, ovviamente solo col paese piccolino, 2000 abitanti, quindi non riuscivamo a coprire, avere i numeri per poter fare delle squadre, quindi siamo andati proprio di paese in paese, mettendo manifesti dalle scuole, nei comuni, a cercare bambini, ragazzi che non facessero attività, che fossero interessati e stranamente in questi ultimi periodi, arrivano molta gente dalla costa, invece che dall'introterra abbiamo bambini di Camporosso, di Ventimiglia, di Valle Crozi e questo per noi è un motivo di grande orgoglio, di gran prestigio. Il responsabile della scuola tennis di Dolceacqua è Giacomo De Gaetano, istruttore federale della FIT, che ci parla un po' dei numeri e da quando è nata questa scuola De Gaetano. Sì, diciamo che è tre anni che cerchiamo di raggruppare un attimino i bambini di Dolceacqua e comunque della Vallata, c'è qualcuno che viene anche giù da Ventimiglia e tre anni che riusciamo, se non altro, a mettere la passione del tennis, che è uno sport molto difficile, a questi ragazzi. C'è Tiziana Gamaliero che è la mia aiutante, comunque istruttrice come me e c'è Gianmarco Capano che è un giocatore di seconda categoria, perciò ci dà anche un aspetto un attimino più professionale a tutto il discorso che può essere la scuola. I ragazzi penso che si divertano, abbiamo un numero intorno ai 40 bambini per il momento, poi siamo riusciti a coinvolgere anche le mamme, perciò anche i genitori e riusciamo a far girare un totale come sportiva di circa un 60-70 provetti giocatori di tennis. Si spera che poi migliorino praticando. Già si può vedere a quell'età, perché io penso che ci siano di 6 anni, 7 anni, 8 anni, già si può vedere qualcuno che è un po' più portato, Tiziana? Sicuramente, già dalla coordinazione, dai loro movimenti, come si muovono in campo. Ti senti responsabile oppure ci sono tante soddisfazioni che ti danno quando vedi che ci sono dei miglioramenti? Tante soddisfazioni, certo. Poi cresci con loro. Qualche torneino e cominciano a farlo? Qualcuno sì. A livello agonistico per ora, noi avendo iniziato da 3 anni, abbiamo per quanto riguarda i bambini soltanto fatto i promo, che sono promo non agonistici, che la federazione cerca di organizzare. L'anno scorso col promo non agonistico femminile Under 12, no, Under 10, perché erano ancora Under 10, quest'anno passano Under 11, Under 12, siamo riusciti a fare la finale regionale, anche se non ha senso dire finale regionale, perché è una cosa non agonistica per farci divertire. Però c'era comunque il CAT Genova, che è il centro addestramento tennis di Genova, lo Junior San Benedetto La Spezia e poi c'era l'US Dolceacqua a fare questa pseudo finale regionale, che per le bambine è stata una bella soddisfazione, anche a noi come sportiva e come istruttori. Per quanto riguarda il discorso agonistico, abbiamo iscritto l'anno scorso tre squadre, la D3 agonistica, perciò quella che era la Coppa Italia regionale, tre squadre maschili e abbiamo fatto la Riviera dei Fiori come squadra, come primo anno. Quest'anno ripeteremo le stesse squadre, probabilmente quattro squadre, le bambine avranno due squadre Under 11, squadra A e squadra B, per cercare un attimino di fargli capire anche che cos'è comunque il discorso agonistico. Quello importante secondo me è cercare noi, e come sportiva, di non perdere la nostra dimensione, cioè noi dobbiamo essere un serbatoio poi per poter dare la passione e che loro continuino nei circoli, dove comunque avranno altre strutture e l'impegno sarà maggiore. Per ora stiamo cercando di collaborare anche con i circoli della provincia, siamo in ottimi rapporti con tutti, specialmente col Tennis Club Sanremo, che ci può dare comunque la possibilità di avere un discorso agonistico superiore. Qualche uno dei nostri ragazzi l'anno scorso in tre sono già riusciti ad andare giù, perciò collaboriamo anche con gli altri circoli.